L'auto dovrebbe essere là. Mabel Perkins, 82 anni. Il nome Mabel non suona molto minaccioso. Neanche il nome Henrietta. Hai ragione. Perché? E ti fa sempre così. Perché fa la misteriosa? Poteva dirlo a Kenzie e Dix chi dovevano proteggere. Chissà, forse era riservato. Io non intendevo riservato, intendevo privato. E allora il suo contatto è privato. Non era una cosa col lavoro. Io direi di sì. Allora hai letto. Ho visto solo un nome, giuro. Ah, non importa, tanto non indovinerai mai di che si tratta. Era Elwin Spencer. Vediamo. Spencer ha lavorato a un caso del Dipartimento della Difesa due anni fa. È uno degli esperti di robotica del sottosegretario. Ha più o meno la tua età. Un ingegnere che è anche un patito di matematica. È uno dei tuoi amici matematici. Stai organizzando una riunione di cervelloni. È così, vero? Sì, ho ragione. Hai avuto fortuna. Sono molto fortunato oggi. Non so, vero? Grazie a tutti.